pensate c'è un gioco bene io non mi sto divertendo vi diverte far chiudere profili di persone solo perché non vi piacciono voi non avete la minima idea di quanto tempo ci ho messo per creare la mia realtà e voi mi deridete nel frattempo che viene distrutta fanculo ad agosto dove andare ibiza invece devo andare nel cantiere di mio zio con lo scampello a lavorare devo tornare a lavorare io non ci torno non ci torno a lavorare non sotto 30 gradi ok fottetevi deridete di me perché tanto tornerò se c'è ancora qualcuno che mi vuole bene in questa piattaforma faccio una storia un posto in qualunque cosa con un hashtag io sto con denis perché solo con voi posso sperare di tornare a prendere il mio profilo vi prego ragazzi per tutto ciò che ho non voglio tornare a lavorare vi prego non gliela diamo vinta una nocce per caso ci stavi credendo ci stavi credendo fatti dire una cosa non mi frego un cazzo mi hai dato solo più tempo per spaccare solo le fans facciamo una cosa e ci vediamo di la ok a sta luego baby